bene ciao a tutti bentornati in un nuovo video oggi come potete vedere c'è un po di sole quindi se mi vedete così è per quello oggi andremo a parlare di una questione abbastanza controversa anche questa nell'ambito bonsaistico che è lo sfagno come vedete sono qui con il mio acero tridente che ho rinvasato qualche video fa è passata qualche settimana dal rinvaso e come potete vedere tutte le gemme si sono aperte e stanno iniziando a venire fuori le foglie stavo notando anche che il terriccio inizia a seccarsi perché inizia a fare caldo iniziano esserci anche 20 gradi ogni tanto chiaramente sotto vedete se spostate un po sotto è ancora umido è ok però questo mi ha fatto pensare bene siamo ancora marzo il terriccio già si sta seccando in superficie immaginate cosa potrà succedere ad agosto a luglio quando ci saranno 30 40 gradi e da qui ho pensato beh a questo punto ci metterò sicuramente lo sfagno allora perché utilizzare lo sfagno beh io lo utilizzo principalmente ad esempio qua siamo sul mio prunus che anche lui sto prendendo tutte le gemme a me serve principalmente per capire quando è meglio annaffiare e mantenere l'umidità durante i mesi più caldi questo perché lo sfagno quando lo andiamo a toccare sentiamo che è bagnato questo è semplicissimo ci fa capire che è bagnato quindi non c'è bisogno di annaffiare se invece andando a toccare sentiamo che è secco quello è un indice che il terreno ha bisogno di essere idratato e quindi bisogna annaffiare quindi io l'utilizzo principalmente per queste ragioni qua poi per i vasi particolarmente piccoli secondo me è utilissimo e va utilizzato quasi per forza almeno qui da me perché altrimenti d'estate veramente i vasi si prosciugano e le piante seccano un'alternativa all'utilizzo dello sfagno potrebbe essere l'utilizzo del muschio qua vedete siamo sul mio boschetto di carpini che anche questi stanno svegliando qua ho deciso di mettere il muschio principalmente per un fattore estetico si tratta di un boschetto e quindi mettere il muschio simula meglio diciamo un bosco vero e proprio l'ho messo sia qui sia in questo boschetto di betulle qua e sia in questo bosco enorme qua di betulle diciamo che comunque soprattutto in fase di coltivazione quindi quando non dobbiamo esporre la nostra pianta in qualche mostra consiglierei di utilizzare lo sfagno più che il muschio questo perché il muschio potrebbe trasportare con sé diversi patogeni funghi insetti e robe varie che potrebbero poi andare ad intaccare le piante su cui lo poniamo altra cosa abbastanza fastidiosa che può succedere è che il muschio porti con sé semi di piantine tipo queste o queste qua e che poi ci vadano a colonizzare il substrato altra cosa spiacevole che fa il muschio è dopo un po' risalire sopra i tronchi delle piante questa è una cosa che non va assolutamente bene perché va a far marcire il tronco e nel caso sulla nostra pianta abbiamo magari del secco comunque una corteccia molto importante ci va a togliere tantissimo valore ai nostri materiali principalmente lo sfagno è muschio essiccato muschio di sfagno essiccato viene venduto principalmente così facilmente riconoscibile ad ogni modo vi lascio come sempre il link amazon dello sfagno che utilizzo io e questo qua fate conto questo sacchetto era pieno l'ho comprato due anni fa almeno poi ovvio non lo uso su tutte le piante però c'è anche da dire che piante molto grosse tipo il mio ginkgo che è in un vaso che è profondo so 20 centimetri o più largo 50 centimetri non ha senso metterci lo sfagno ha una quantità di di terreno che insomma è difficilissimo che vada a disidratarsi e quindi secondo me lo sfagno è molto utile nel caso di quei vasi particolarmente piccoli o di quelle essenze che magari hanno bisogno di un po più di umidità ad esempio vivete in sud italia e volete coltivare degli aceri che siano palmati o tridenti vi consiglierei di utilizzare lo sfagno sopra i vostri vasi viceversa avete un olivastro siete nel nord italia e il vostro olivastro un vaso abbastanza grande beh in quel caso vi sconsiglio di utilizzare lo sfagno non tanto perché può arrecare un danno alla pianta ma più che altro perché non ne avrà bisogno fattore determinante nella scelta del utilizzare o meno lo sfagno e anche l'esposizione che avete nel vostro giardino perché se le vostre piante stanno all'ombra tutto il giorno allora magari lo sfagno non hanno bisogno ma se avete un giardino che è esposto dove batte il sole tutto il giorno come ad esempio da me magari utilizzare lo sfagno è utile magari non nel caso di questo olivastro che ha un vaso bello capiente ed è un olivastro quindi come vado ad applicare lo sfagno sulle mie piante allora innanzitutto prendo lo sfagno e lo sbriciolo all'interno di una bacinella di un secchio di quello che vi pare non sto a renderlo a polverizzarlo vado solo a rimuovere magari quei pezzi un po più grossi anche perché spesso lo sfagno diventa in blocchi come questo e quindi magari togliamo la plastica e quindi è meglio un po dividerlo in pezzi più piccoli semplicemente insomma facendo così dopodiché una volta ridotto lo sfagno in piccoli pezzi vado ad aggiungerci l'acqua una volta fatti idratare per bene lo sfagno lo prendete lo strizzate un po dall'acqua e lo andate a mettere sopra il vaso dopodiché una volta che il vaso sarà bello pieno lo pressate per bene ecco fatto quindi sfagno applicato su tutto il vaso vedetelo anche pressato perché se non lo pressate rischiate poi che quando si secca un po e viene il vento e bolli tutto via quindi soprattutto all'inizio quando l'avete messo da poco tenetelo sempre bello umido così si stabilizza si compatta e dopo poi per l'estate non vi volerà via poi qualche consiglio di sfagno non mettetene 3-4 centimetri un centimetro due centimetri massimo basta in avanza insomma uno strato va più che bene e poi mi raccomando non andate mai sopra il bordo del del vaso perché altrimenti poi quando annaffiate l'acqua vi scola via dal vaso e non va dentro al vaso e stessa cosa vale anche per i concimi tutto quello che andate a mettere altrimenti vi scivola via dal vaso e non vi entra bene dentro il vaso quindi lasciate sempre almeno un po di spazio tra il livello del terreno e il vaso almeno finché siete in vasi da coltivazione poi vasi da esposizione vasi bonsai eccetera vabbè quelli hanno altre regole ma non è il nostro caso bene quindi spero di aver fatto un po di chiarezza sulla questione sfagno per i nostri bonsai e pre bonsai grazie come sempre a tutti per aver seguito anche questo video noi ci vediamo nel prossimo lasciate un mi piace commentate condividete e alla prossima ciao a tutti